Situazione verde pubblico appunto. Situazione verde pubblico non è in realtà diversa dalla situazione, ad esempio, per le riparazioni delle buche e delle strade. Insomma, per tutto questo genere di manutenzioni i fondi non ci sono, nel senso che negli anni sono stati progressivamente ridotti, tagliati. Un anno del 20%, un anno del 30%, insomma, quindi a forza di tagliare adesso ce n'è magari la metà, un terzo di quello che ce n'era anche solo 3-4 anni fa. Certo che naturalmente non ci si può limitare però alla risposta non ci sono i soldi, nel senso che comunque alcune manutenzioni vanno fatte anche perché poi, devo dire, il cittadino le tasse le paga. Alla fine comunque il comune viene pagato e quindi un minimo di servizio e di gestione dei beni comuni e della collettività deve venire dato. E quindi forse sarebbe prima o poi il caso anche di andare in agare perché non ci sono più i soldi, quindi perché sono stati fatti i debiti in questi 10 anni e le casse adesso sono vuote e pagare gli interessi del debito ogni anno si porta via talmente tanti soldi che non ci sono più i soldi per il resto. Però insomma la situazione è questa e quindi l'unica cosa che si può fare, che il comune sta un po' cercando di fare, anche noi un po' lo sollecitiamo, è cercare di trovare altre forze per cui di mobilitare i cittadini, le associazioni. Spesso adesso ad esempio si dà in concessione magari un locale comunale a una bocciofila però gli si chiede magari di tagliare l'erba del prato davanti, nel parco davanti. Quindi si fanno così questo genere, c'è anche un esperimento di coinvolgimento dei cittadini, volontari, che magari appunto pensionati o persone che hanno comunque tempo a disposizione, che con le opportune garanzie assicurative, dando gli strumenti eccetera, possono fare questo genere di lavori. Però è evidente comunque che la situazione non va bene, nel senso che tutti questi sforzi ancora non hanno prodotto un risultato accettabile, anzi è molto comune andare in giro a trovare dei giardini che sono veramente delle selve infrequentabili, pericolosi magari sia perché ci si avventura, per gli animali, magari anche per la visibilità se sono vicino a una strada. Quindi la situazione non è positiva. In questo senso le possibilità, posto che viene detto più volte il bilancio del comune, non c'è ancora, nel senso che non ci sono le voci che lo dovrebbero comporre, quindi anche volendo non si può fare. Però ci sono le possibilità di pensare che questo genere di servizi possa avere la priorità su altri, oppure comunque la composizione del bilancio del comune, penso ad esempio a tutto quello che riguarda l'assistenza, ha priorità diverse e si può pensare che un investimento in questo senso, anche per quel che riguarda il lavoro, cioè delle persone che si devono occupare di attività che richiedono mano d'opera, quindi non debba essere priorità in un momento in cui comunque il costo pubblico deve in qualche modo diminuire, poi sarebbe importante che diminuisse sulle voci di spreco, sintetizziamole così, però... In realtà secondo me questo invece è un settore intelligente, in cui investire proprio anche nell'ottica più generale dell'economia, perché comunque è un settore dove appunto si creano posti di lavoro, anche posti di lavoro non tanto qualificati, ma proprio per questo accessibili anche ai disoccupati, anche di qualunque livello di istruzione, di qualunque età generalmente, insomma. E infatti anzi questa è proprio una delle occupazioni per i cantieri di lavoro, che sono una cosa che il comune ha tagliato purtroppo negli anni di nuovo per scarsità di fondi, e su cui invece secondo noi si sarebbe dovuto investire di più, perché erano comunque un'opportunità di lavoro per persone che spesso non avevano altri redditi, quindi magari anche con quei pochi soldi, però intanto avevano qualcosa per sopravvivere. E quindi sicuramente secondo noi adesso quando si discuterà il bilancio, perché appunto il bilancio ancora non esiste, il bilancio del 2013, si aspetta che da Roma decidano fissare l'IMUL, le regole definitive, e quindi il comune non può fare il bilancio perché non sa quanti soldi gli entreranno dalle tasse, perché a Roma non l'hanno ancora deciso, però diciamo si spera che adesso nel mese di luglio, massimo settembre, si riesca a capire quanti soldi ci possono essere messi, e noi cercheremo di mettere dei soldi proprio su questo genere di cose, perché siamo convinti che comunque sia anche un intervento che ricade nella possibilità di dare lavoro, e quindi anche forse più efficace di quello puramente assistenziale di semplicemente dare dei soldi in mano a qualcuno, che con le fasce più deboli ovviamente va fatto perché le persone non vanno abbandonate, specie quelle in difficoltà e così via. Però ci piacerebbe che questi interventi economici del comune e delle istituzioni fossero mirati a una sostenibilità, quindi a creare poi del lavoro che perlomeno ha un ritorno per la collettività, se non proprio capace poi di sostenersi magari nel tempo, di diventare un'attività che non vive più di fondi pubblici, invece che semplicemente mantenere una rete che purtroppo spesso è anche un po' clientelare, di sussidi un po' a pioggia, dati un po' anche per conoscenza, per criteri spesso non tanto chiari, e quindi che diventa più assistenziale e meno utile per i cittadini. Sentiamo.